Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? Ciao bambini e bentornati al Gormiti Show! Come mi sento fortunato oggi, forse solo oggi, Giada! Anche io mi sento super fortunato, quindi voglio iniziare subitissimo! 3, 2, 1... Devo dire che questa nuova Wade però sono tutti forti! Io sento che inizierò questa volta! Ok, va bene, io ho trovato Iridium! Io ho trovato Lord Helios! Eh, insomma, un Lord... Mi sento molto fortunata! Vabbè, vediamo, vediamo! Sulla card ho il numero 8! Io il numero 9! Sono in vantaggio! Sotto il piede ho il numero 3! Io il numero 7! Quindi Gianni, che è stato fortunato oggi? Vabbè, ma solo oggi, Giada, dai, solo oggi! Inutile che balli! Solo oggi! Che c'è? Adesso però... Facciamo un'altra sfida, sì, lo so, dai! No, 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 no! C'è una battaglia che ci aspetta! Sei pronto? Ah sì? Guarda un po'. Troetion! L'oceano è invincibile! Braggio abissale! Tempesta del caos! Johnny, hai visto che super mega battaglia? Eh, ce la direi che sono fortissimi, eh! Sì, guarda un po' che ho qui! Ho Seskel di 8 centimetri! Bellissimo Seskel! Il forte è anche lui! E io, Lord Trition, Giada, non solo posso muovere testa, gambe e tirarti qualche calcio... Anche io posso tirarti i calci, guarda come si muove! Ma c'è una novità in questo bellissimo giocattolo, guarda! Che novità! Posso allungare i miei tentacoli e intrappolarti! No, ma così è fortissimo, Johnny! Beh, anche lui è forte, con la sua arma sconfigge tutti i suoi nemici! Dai, allora prova a sconfiggermi! Però, Johnny, non possiamo giocare perché c'è qualcuno che ci sta aspettando! È vero, è vero, è vero! Andiamo! Ciao, Pietro! Ciao! Come stai? Bene! Oh, ma sei contenta di essere qui al Gormity Show? Sì! Sei emozionato che tutti i tuoi amichetti ti guarderanno? Beh, basta che glielo dico! Eh beh, certo, bisogna avvisarli, guarda che ci sono anche io al Gormity Show! Mi raccomando, i tuoi amici, adesso che hai iniziato la scuola, tra l'altro, li incontri durante la lezione, glielo puoi dire! Allora, dici un po', qual è il tuo Gormita preferito? Lord Carrion! È fino a qua! Siamo sulla sosteniana donna, ragazzi! Piaccia a molti Lord Carrion! Eh, è Lord Carrion, è vero che è forte Lord Carrion! E anche Lord Titano! Ah, vedi, allora! Allora, va bene! Perché tu sai, da buon fan del Gormity Show che Giada piace Lord Titano, bravo Pietro! Eh beh, è fortissimo Lord Titano! Ma invece lì dietro, che cosa c'è? Vedi un sacco di Gormity, un sacco di cose! Sembra una cartoleria da quello che ha fatto! È vero, ordinatissimo anche! Ce le fai vedere, prendi quello che ti piace di più e portalo vicino alla telecamera! Grande! Ma c'è anche la maglietta del Gormity Giada, non sottovalutarlo! È un super fan lui, eh! È un super fan! Vediamo! Che ha preso? Il Titano degli elementi! Il Titano! Sì, come lui, mastodonte! Fortissimo! Praticamente l'ho trovato quasi subito! Dai! Ma sei stato fortunatissimo! Hai trovato uno davvero forte! Se combatti con gli amici vinci su tutti! Tu lo sai che il Titano degli elementi è il più forte di tutti, vero? Sì! È il saggio di tutta Gorma! Ma vuoi chiederci qualcosa prima di salutarci? Una curiosità? Quello che vuoi! Siamo qua per te! No, io vi invito al mio compleanno! Dai! Ah, quando fai gli anni? Il 22 settembre! Ah, manca poco! Manca pochissimo! Invitaci, invitaci! Volentieri! Scrivi pure la produzione e veniamo a trovarci! Veniamo a trovarti, va bene? Noi veniamo davvero! Invitaci che noi veniamo davvero! Non è uno scherzo! Allora, per salutarti, tanto ci vedremo presto a sto punto, ci apriamo le braccia e ci gormabbracciamo! Forte, forte! Va bene? Ti mandiamo un mega bacione! Ci vediamo al tuo compleanno, ti facciamo una sorpresa! Ciao! 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 Ti voglio bene! Oh, anche noi! Ti vogliamo bene anche voi! Ti vogliamo un buoricino! Ciao! 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 È sempre bellissimo conoscervi e parlare con voi! Ma come si fa a partecipare, Giada? È facilissimo, Johnny! Basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni! E noi vi aspettiamo in tantissimi... Ora è arrivato il momento della... Baccheka Gormitica! Oggi ci ha scritto Valerio! Ok! Leggo la sua dedica! Sì! Per tutta la mia vita ho sempre avuto i gormiti accanto a me, in ogni momento sia bello che brutto, e anche ogni skin di un famoso videogioco che faccio e che continuerò a fare. Quando guardo gli episodi, mi sembra di tornare ai tempi della mia infanzia, e per me è una grandissima fortuna che i bambini di ora non si siano mai dimenticati il nome che porta questo cartone. Vi auguro una lunga e gloriosa vita gormitica e buon lavoro con i prossimi episodi a venire! Vai, ma che carino! Grazie mille! Guarda cosa ci siamo andato! E continuo a disegnare e fare questi... Sì, proprio ricorda questo famosissimo gioco, è molto bello! Sei davvero bravo! Bravo, ci piace tanto, tanto, tanto! Giada è finito l'episodio, dobbiamo salutare i nostri amici, ma cosa devono fare? Devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube! Giusto, iscriversi al canale, mettere tantissimi like! E condividere il video, perché ci sono sempre tantissime novità! Noi vi aspettiamo qua al Gormity Show, non mancate! Un saluto da Gianni! E Zada! Ciao! Ciao!